Sottotitoli e Sottotitoli ladies and gentlemen benvenuti merhaban fi aflija isat ospitalità italiana welcome to ospitali italiana award ceremony e I would like to express my special thanks to Mr Giovanni Favilli Consul General of Italy e al signor Piero Ricotti, vicepresidente dell'Italia Industria e Commercia dell'UE e io vorrei invitarlo a prendere il pietro per benvenire voi. Grazie a tutti per essere qui oggi. Come per molti anni, questa mattina è bellissima e bellissima e questo è diventato un evento signorale dell'Italia Industria e Commercia dell'UE Grazie a tutti. Grazie a tutti.